Stiamo presentando un'inversione dell'ordine dei lavori subito dopo questa mozione per votare la delibera e per cui non scapperemo di certo davanti alle nostre responsabilità. Però chiediamo al Partito Democratico di non scappare di fronte alle responsabilità che ha in questo Paese. Il regolamento comunale che dice chiaramente al punto 1 per le manifestazioni di intenti del Consiglio di fronte ad eventi che interessano la città e di rilevanza nazionale o internazionale e che presentino carattere di urgenza e non impegnano il bilancio del Comune né modificano le norme vigente dell'amministrazione comunale non necessaria la preventiva iscrizione nell'ordine dei lavori della seduta. Per cui questo Consiglio è ben legittimato a portare avanti questa mozione. Grazie.